ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video per l'effetto che andremo a fare oggi ci saranno utili otto carte i quattro re e i quattro assi i quattro re ragazzi che vado a girare i quattro assi li andremo a mettere sopra il re che vado subito a presentarvi che voi tutti conoscete e sono l'asso di picche l'asso di fiori l'asso di cuori e infine l'asso di quadri ragazzi dunque qui abbiamo i quattro assi e i quattro re ora andrò a prendere 1 2 3 e 4 andrò a prendere i due re ragazzi due re e poi i quattro assi guardate ragazzi basta avvicinare i quattro assi vicino ai due re che con un tocco magico un asso si teletrasporta in mezzo ai due re e come infatti ragazzi qui abbiamo i tre assi e qui abbiamo i due re e in mezzo l'asso mancante ragazzi spero che questo effetto vi sia piaciuto prima di chiudere volevo salutare due amici due amici molto simpatici che hanno due bellissimi canali il primo si chiama sonic step ciao amico ragazzi sonic step è un bellissimo canale è sempre sotto i miei video e chi vuole fare iscritto ricambio sonic step è la persona giusta un bellissimo canale ragazzi mi raccomando è iscrivetevi a sonic step che lui ricambierà e poi ci teneva a salutare emily k ciao emily come vedi non mi sono dimenticato di te anche emily ha un bellissimo canale amici io vi saluto e ci vediamo al prossimo video mi raccomando è pollice in su e alla prossima ciao a tutti